ragazzi stiamo andando a vedere frozen 2 e questo sarà il video dove farò delle considerazioni finali non lo so se uscirà o meno perché poi dipende anche che considerazioni mi fa uscire però sì sì adesso attraverso prima di morire però sì non so come sarà sto prendendo un po le emozioni iniziali no non so non so e quindi non lo so è un misto tra tristezza mista ricordi mista soltanto che mi sono messo questa collana qua di olaf questa che di once upon a time e la maglietta questa qua che ho scritto questo significa appunto il destino cioè il che il freddo non appartiene più a me non mi non mi ucciderà più e quindi niente ah poi ho messo anche questi qua questi faccio vedere ho messo questo qua di olaf e questo qua di elsa e poi questo pan semi pandora che vendeva che vendeva al disney store coi charms che me l'hanno regalato bellissimo e niente pronti siamo pronti siamo pronti ragazzi siamo qui al cinema buonasera siamo qui al cinema e l'esempio di sclero più totale siamo in attesa siamo in attesa questa mia bellissima maglietta siamo in attesa voi l'avete visto se sì ragazzi noi abbiamo ansia che il cinema era pieno io ho prenotato anche ovviamente a questi bellissimi posti dove ci restiamo dove stiamo fare le ginni che siamo sgambettare allegramente sono le 6 e 10 e non c'è nemmeno elsa che è bella c'è solo la voglia di nachos le scarpe le voglio no voglio le voglio sono per bambine luca ma adesso questa casa è bellissima ma sono per bambine ragazzi ci siamo qua questa è ancora pubblicità e non vi spoilerò niente penny market ah questa è quella che l'ho vista in a berlino questi qua però sta 15 euro la lucetta non è blu perché è di 15 euro ma che è la lucetta larviola? boh che so dal tonisci credo ci qui allora ci ho voluto dormire su non ho voluto registrare subito dopo l'uscita del cinema perché sono uscito dal cinema totalmente scioccato non ci saranno spoiler assolutamente io odio i spoiler infatti questo sarà soltanto per catturare le sensazioni della prima volta no? perché a me piace tantissimo proprio il catturare le sensazioni della prima volta ogni prima volta ha quelle sensazioni pure vere che la seconda non ti capitano infatti poi lo riguarderò ma lo riguarderò più con attenzione e meno con sentimento le prime volte sono sempre fatte con sentimento infatti volevo catturare questo momento quindi non ci saranno spoiler se volete ci sarà fare un altro video perché in realtà già mi avete chiesto un sacco di tempo fa di fare la filosofia che secondo me c'è dietro Frozen 1 magari possiamo fare anche la filosofia che c'è dietro Frozen 2 facciamo un 2 episodi oppure un 3 episodi Frozen 1, i corti e Frozen 3 una trilogia sulla filosofia dietro Frozen ma qui non siamo qui per appunto pensare a questo le sensazioni allora io appena sono uscito dal cinema ero completamente sotto shock le mie amiche potranno dirlo perché? perché non posso dirvi molto però perché non lo so ritornare dopo 6 anni perché per me Frozen è stato un film poi magari faccio un video a parte dove vi spiego cos'è stato Frozen 1 per me ma è stato un così una un ancora di salvezza che tornare dopo 6 anni quando non avevo niente perché io 6 anni fa non avevo proprio nulla tornare indietro e ritornare nel luogo dove ti ha visto nascere ovvero Arendelle che può sembrare banale come cosa però credetemi non lo è ognuno poi si attacca a quello che che meglio crede credo perché secondo me Frozen non è un cartone è molto di più c'è molto di più dietro c'è un messaggio ben chiaro che se capito può aiutare un sacco di persone soprattutto Frozen 1 Frozen 2 non ve lo spoiler però le sensazioni che ci sono state dietro Frozen 2 sono quelle quelle di ritornare nel luogo in cui appunto mi ero lasciato no? in quel luogo che mi ha fatto crescere e nascere ritornare in quel luogo Arendelle e sentirsi più forte cioè vedere quel film con gli occhi di chi è più forte è stato un po' strano perché io quando 6 anni fa lo vedi non riuscì ad andare al cinema perché non avevo amici non avevo persone non avevo nessuno quindi lo vedi in streaming lo so che è un reato però la streaming lo può salvare per chi non può andare al cinema e quella sera io mi ricordo che quella sera dopo aver visto quel film per tutta quella settimana io vidi solo quel film è stato un imagersi nel mondo di Arendelle pazzesco e quindi io quel posto l'avevo visto soltanto quei 6 anni fa con quegli occhi poi ovviamente l'ho visto altre 50 volte però man mano che andavo avanti io Frozen l'ho visto sempre più in evoluzione il film che seguiva il mio percorso e una volta che sono arrivato dopo questi 6 anni ad aver avuto anzi mi ritengo una persona che ha abbastanza un'identità adesso prima era completamente un no sense la mia identità adesso credo di averla credo di aver raggiunto un'identità cioè se qualcuno dice chi è Luca credo di poterlo non io credo che qualcuno può spiegarlo più o meno invece prima comunque sempre da solo ho fatto i suoi parlavo solo con me stesso non parlavo con nessuno le sensazioni una volta uscito dal cinema Luca non perdere il filo logico dice perché fai venire i video sempre di mezz'ora perché parli perché parli da solo sei da solo in una stanza che parli nessuno ti ascolta e nessuno ti vede però stai parlando da solo bene molto bene le sensazioni sono state quelle di totale offuscamento quando sono uscito da quel cinema avete presente Raven quella che ha le visioni così ecco io sono uscito dal cinema a parte vabbè all'inizio avete visto un po' di scene ero completamente in ansia quasi non riuscivo a respirare all'inizio vabbè è stato veramente bruttissimo all'inizio prima di andare a vedere il cinema perché era un ritornare sul mio luogo è stato strano ma quando sono uscito c'erano tutti i frame della storia di come andava a finire perché poi si raggiunge un senso in Frozen 2 non è uno spoiler ma è una cosa si raggiunge tutto un senso di ogni cosa e quindi ti vedi ti vedi tutta la realtà la verità che passa davanti tutte queste cose del passato del futuro del presente però esci e vedi ancora quel castello cioè io sono uscito e ho visto la scena di lei che esce dal balcone del primo film ed è stata una sensazione strana le mie amiche mi hanno chiesto tanto non lo guarderanno le mie amiche questo che i miei amici non guardano i miei video e mi hanno detto com'è stato il film? io eh com'è stato il film? eh ma com'è stato sceneggiato o com'è stato vissuto? che poi è diverso e queste sono le sensazioni dei primi ascolti delle prime visioni di come l'ho visto di come l'ho percepito di come era o di come l'ho fatto diventare di come è stato rappresentato o di come l'ho sentito in cuor mio e allora e allora non ho saputo di rispondere ho detto non lo so non lo so non lo so è stato completamente un ho anche mi sono anche commosso in una scena in cui non vi dirò però è stato molto molto toccante molto 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 questo cioè il Frozen 2 io l'ho da descrivere così è stata una liberazione mista non lo so non lo so quindi fatemi sapere se non riesco nemmeno a continuare più questo video sinceramente perché non lo so cioè c'è un c'è un magone qui assurdo e niente se volete un po' io ovviamente adesso lo rivedrò altre come minimo altre 50 volte non più con gli stessi occhi ecco perché ho fatto questo video perché è stata una sensazione strana che voglio ricordarmi magari riguardandolo ecco forse non avere il canale sei anni fa non mi ha fatto cioè sarebbe venuto un ricordo pazzesco ragazzi io che racconto sei anni fa quello che ho percepito con Flose 1 voi non potete avere idea cioè sarebbe stato un video un ricordo più che un video un ricordo da rivedere molto passionalmente cioè ce l'ho qui il ricordo non pensate che se non c'è il video non c'è il ricordo anzi forse è meglio perché è una cosa mia tanto comunque non la so spiegare come Frose 2 comunque non la so spiegare quindi in questo video cosa avrei detto nel video di sei anni fa niente c'è una muta solo grazie credo perché è stata l'unica l'unica cosa l'unica l'unica valvola io questo video non vorrei nemmeno editarlo vorrei buttarlo così sul web perché anche le pause anche il silenzio di pause secondo me ha qualcosa non lo so comunque vabbè decidiamo un prossimo video adesso vi faccio vi registro un video breve per la recensione di popchart che me l'avete chiesta che è un sito vabbè vi spiego là che uscirà dopo di questo questo non lo so penso che uscirà venerdì black friday giorno di black friday 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 e mentre l'altro penso che faccio uscire domenica così è un video un po' più caldo non è un video da vedere è un video da far restare sul web per per educare l'acquisto online come faccio vedere noi ci vediamo a un prossimo video spero che questo video sia piaciuto e fatemi sapere qui sotto se avete visto frozen 2 cosa vi ha suscitato cosa ne pensate senza fare spoiler perché ricordate chi non l'ha visto chi non l'ha visto deve avere lo stesso diritto di vedere video contenuti commenti allo stesso modo vostro poi facciamo un video a parte finisce l'ondata di frozen io non lo dimentico finisce l'ondata il mainstream di parlare di frozen che a me non piace seguire il mainstream finisce questa ondata e ne riparliamo con calma beh noi ci vediamo un prossimo video party life un prossimo video